Ehi, che tempi, che ricordi, che pazzia! C'è stato un momento che c'era venuto il gusto di dissacrare tutto e d'altra parte ci si doveva divertire, allora non c'era la televisione con tutti quei programmi dove chiamano in tanti e uno la pensa in maniera diversa e litigano e anche il pubblico partecipa e anche noi volevamo essere partecipi. C'è stato un momento che c'era venuta l'idea di andare al cinema a dare delle sberle sulle teste dei calvi. Sì, sì, quelli lì senza capelli. Andavamo al cinema, guardavamo al buio quelle belle teste lucide che brillavano sul faro del proiettore, ci si sedeva di dietro e a un certo punto, pac! Una gran pac! Quello in cui perito si voltavano i mogi-mogi, ci scusi, ci scusi! L'avevamo scambiato per il nostro amico Giovanni che è pettinato come lei! Questo imbufalito si alzava e andava via, magari andava a cercare un posto tranquillo in galleria. Noi aspettavamo un po' e poi piano piano lo seguivamo. Andavamo anche noi in galleria, guardavamo, andavamo a sederci dietro e poi a un certo punto, pac! Giovanni, ma lo sai che giù c'è uno che ti assomiglia a spaccato! Un'altra volta siamo andati a teatro a vedere quella commedia lì di Camasio e Auxilia che è addio Giovinetta. Oh, commedia! Una tragedia! Che la gente piangeva non soltanto uscendo ma anche dopo per una settimana se ci ripensava. Allora noi andavamo lì, aspettavamo proprio il momento di maggiore commozione quando sembrava di sentire le lacrime che colano e la gente che tirava fuori il pazzoletto per sciogarsi le lacrime e proprio in quel momento uno di noi facendo la vocetta di un bambino esplodeva. Mamma! Voglio il ciuccio! Risata generale e lo spettacolo. O un'altra volta al teatro Carignano. Oh sì! C'era il grande Memo Benassi che dava il Macbeth di Shakespeare e lì abbiamo aspettato anche lì il momento più drammatico quando c'è un ufficiale che dopo la morte di Lady Macbeth va a dare la notizia a Re Macbeth il quale Elias tutto assorto nei suoi pensieri ma ha sentito delle voci, degli rumori che venivano da fuori. Si presenta l'ufficiale, Macbeth lo guarda e fa ma ebbene che cosa erano quelle urla e noi ho la pipì papà! Ah, quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia e a chi vuole esser lieto sia del domani Don Vecervet! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E' permesso, dottore? Venga, venga pure mamma Rosa, venga Ma, tutto profone! Ma che bella che sentita così Ah, Dorina, allora che oggi non vuoi proprio andare a lavorare? No, mi sento poco bene Si sente poco bene? Che cos'ha? Manti rabbia Ma che bei fiori! Che bevi 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 fiori! Ti credi? No, non ti credo. 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 Anzi, adesso è tardi. No, non ti credo. 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 quel bacio. No, non ti credo. No, non ti credo. ma ti credo. l'amore vuole. la sua libertà, la sua follia, la sua follia. però, non ti credo. non ti credo. no, 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 non ti credo. non ti credo. io, non ti credo. no, 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 non ti credo. come non ti credo. no, 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 ti credo. come ho fatto. no, non ti credo. no, non ti credo. no, non ti credo. no, ti credo. no, ti credo. ti credo. no, ti credo. no, ti credo. no, ti credo. non ti credo. no, 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 ti credo. l'ho fatto. vai tranquilla. che il tuo Mario. no, ti credo. ti credo. no, 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 ti credo.